Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Riccardo Bottitta, siamo tornati con Life is Strange True Colors nel secondo capitolo Ragazzi, il capitolo presente è stato un po' molto tist Gabe non c'è più, è morto Praticamente Adesso dobbiamo capire cosa è successo Sì, chi è stato la causa di quella frana Se centra qualcuno Sì, in effetti abbiamo perso con lo step al biglialdino Would've been fun to see Gabe crush some sweet powder Or whatever snowboarders say You surfed him well Eh già Eh già Gabe used to swap the controller out of my hands if he thought I was going to beat him Jerk Thank God for this thing We'd never have found Ethan without it Eh già Però Quel bambino c'è Cape really meant the world to Steph Ora quel bambino si sentirei in colpo, no? Vero è It's a start It's a start Ok Che è stato un po' di lavoro Che si è stato un po' di lavoro Che si è stato un po' di tutto E' già Però non so Lei non c'è entra Vestiti? Possiamo scegliere No, onestamente mi lascio quello io Unico colore Quelli sono Tash Diciamo noi Tash qui Non piacciono le cose così con i disegni Non è così difficile E ancora Sì, posso essere una persona Ah, pulito il bagno No, il videogioco o lasciamo stare? Già ci abbiamo giocato Poi ci gioco da solo Che spettacolo però ragazzi Qua siamo stati con Gabe Mentre ci bevamo la birra I'll toss those soon I swear We should've gotten so many more sunsets I thought this was gonna be the one Finally Despite all the disappointments I really let myself believe I believed you Completely I let myself hope Really hope For the first time in years Even after I freaked out in front of you And hit you You didn't push me away You sat right there And told me that I wasn't broken That I was special And I belonged Then you died Then I don't know what to believe now Except you're gone again And I'm still here Alone Cioè Cioè che aveva trovato Il suo fratello Che era da sola Adesso è di nuovo sola Cioè nel senso Non ha più legami di sangue Adesso lei Orfana Il fratello è morto Ehm vabbè Gabe davvero loved this place Gabe era un padre Spilla Spetta Spetta You could stay here too And I fucking love that shit But I need to try this It's just Time for something new I knew it I knew this would happen eventually Fucking See you around Steph Quindi Steph è stata qui Praticello da golf I bet Gabe could even make golf fun Scommetto che ci giocherò pure A golf Cioè a me piace anche questo Life Stranger Perché ci sono tanti mini giochi Nessamente mi sta piacendo molto Vabbè ragazzi Ah qui No possiamo scendere Possiamo scendere Per colpa del copyright Eh vabbè ragazzi Possiamo scendere Ah ma qui ci sono dei bigliettini Non li abbiamo visti Alex ho organizzato un piccolo evento per tuo fratello domani alle nove Mi farebbe piacere se venissi Ma non sentirti obbligata Ok Prenditi tutto il tempo che ti serve Jed Bar Black Lantern Vabbè ragazzi Non so leggere stasera Se ci si deve incontrare Meglio farlo davanti a un bel bicchiere Alex fammi sapere se hai bisogno di fare spesa Pago io Jed Bar Black Lantern Mescolo ghiaccia e alcol Atto il rischio e il pericolo Thanks Jed Cara Alex Sentite quanto Jans Puoi rimanere nell'appartamento finchè ne hai bisogno Se dovesse succedere qualcosa Sai dove trovarmi Jed è Che è il proprietario del bar Dai una mancia al tuo cameriere Se non puoi Forse hai esagerato Possiamo scendere? Che posto dovevamo suonare la chitarra? Non lo so Ah è chiuso il bar Ovviamente Dopo il lotto Così è cantalopo Things got pretty heated back there Oh hey kid Colpa di Mac Oh grazie Oh grazie Oh grazie Oh grazie Oh grazie Oh grazie a tutti Oh grazie a tutti vorrei farvi che non si vede bene non si vede la scelta che si vede se vede bene non si vede non prenderai tutti i tuoi esperimenti su Mac Loudon non ho una scelta non ho una scelta non era mio francese devo provare sì, ti faccio But If you get a chance, before you go all dirty hairy swing by the dispensarie Charlotte wants to see ya And one more thing I've been meaning to give you this for the last few days but I didn't want to disturb you up there It'll get you through that door And the one upstairs Wow Questo è il tuo casa ora, per quanto riguarda. E' certo, la sorella di Gabe. E l'affitto. Cosa su rent? Non voglio essere un freeloader. Non ti preoccuparti di questo per ora. Siamo lavorando un modo per ottenere il tuo gioco quando il tempo viene. Grazie. Dio a te. Non ho idea cosa dire anche a lui. Mi dispiace così tanto, Alex. Avrei dovuto salvarlo. Non so cosa dire. Ehi, è stato terribile, non avresti dovuto vederlo. So che è un momento difficile. Ma possiamo parlare? So che ti sto chiedendo il mondo. Ma ho davvero bisogno di parlare con te. Beh, onestamente si sente anche in colpa lui, dato che ha tagliato lui la corda. Però se non tagliava la corda, morivano anche loro. Qua intanto ci sono altri messaggi, ragazzi. Charlotte. Alex, mi dispiace così tanto. Non devi rispondermi per fozza. Volevo solo dirti una cosa. Grazie per aver salvato la vita Aitan e suo figlio. Non so cosa farei senza di lui. Grazie. Mi dispiace così tanto. Grazie ancora. Eh. Cioè... Che poi... Per salvare a suo figlio è morto Gabe. Ma vabbè. Daki. Daki. Ah, questo è il cliente. Quello... Che bello. Ubriacone. Carissimo Alex. È stato un vero piacere conoscerti stasera. Spero che Evan possa essere una casa accogliente per te. Non vedo l'ora di vederti di nuovo. Con affetto. Reginald. Mac. Allister. Grazie Daki. Sei molto dolce. Questo è Step. Ehi Alex. Sono Step. Mi dispiace così tanto. Volevo molto bene a Gabe. Posso solo immaginare cosa stia passando. Chiamami se ti serve qualcosa. Questo è Riley. Mi dispiace così tanto Alex. Sappimi dire. Se posso aiutare in qualche modo. Jed. Buongiorno Alex. Se hai visto l'anniversario oggi dirò una piccola cerimonia per Gabe alle 9. Se ti fa di venire. Ma non mi sentite obbligato. Grazie Jed. Scendo subito. Mi fa piacere. Non so cosa rispondere a Ryan. Com'è? Un anno fa ero pronta a lasciare questo posto per continuare a viaggiare come faccio sempre. Un anno fa Gabe è stato il motivo per cui sono rimasto. Ma anche se adesso non c'è più. E anche se mi manca da morire ho altre ragioni per rimanere. Grazie per avermelo dimostrato. Alex. Alex. Anche se fai un po' appena a biliardino. Si è esatto. Mechelowton. Ha cancellato il suo commento. Cosa aveva scritto? Sto cretino. Gabe avrebbe apprezzato avere una birra a sua dorme. E' un po' apprezzato. Ah. In pratica è morta la mamma di Ryan. E' questo Jed? Sembra la sua dorme? Eh. Mura della vergogna. Io credo che Gabe sarebbe qui molto, se non ero la persona prendendo le foto. Guardate. E l'ho fatto all'altare. Pericolo, buono e l'aria. Pericolo, buono e l'aria. è morto per il cristianino. E' l'ho fatto anche. E' l'ho fatto che Ducky non si finisce questo. Corsi di Haven's preferito DJ, credo. Gabe Chen. Ma hai fatto tutto. criminal il guidatore ha ricevuto una copia della molta trasgressore del interrogato si crede molto furbo l'agente firmatario giura depone dichiarala che la persona nominata su questa volta commesso le suscitate infrazioni cosa ha fatto cazzo di velocità media can find something upstairs to put on the memory chip post we had courage in the ocean at night to asana ho fatto con gratitudine a jet per il suo instancabile coraggio e la sua straordinaria devozione dimostrati quando ha salvato il 19 minatori come li ha salvati lascialo così com'è fascinatrice that's more like it i know how you feel no lo lascio così bigliettino c'è un tachy allora questo è forte a biliardo sicuramente giocheremo anche a biliardo ragazzi se mi piace sta cosa che hanno aggiunto i minigiochi questo l'abbiamo letto questo l'abbiamo letto salsa della morte morte fiammeggiante perché perché l'ho fatto piccanto la morte ti attende cocktail molotov ridel sono salsificanti non si può giocare a quello della macchina conto parola povero gaype però no one could blame me for wanting to drink all my sorrows away primavera demira quindi non c'è più sa moglie jed definitely has a decorating style i'd call it steakhouse chic i can't believe steph got me to drink that bedazzled kiwi whatever the fuck shot rm and tb i wonder who they were vediamo un po' si può parlare con lui si spero che le cose around here puoi sottolineare di nuovo si questo sarebbe bene vediamo se troviamo qualcosa da mettere nel la nel tavolo di gabe wonder what i can find up here to add to gabe's memory table la chitarra non si può sanare a quanto pare maybe i should put this downstairs si you're coming downstairs quando erano piccoli quella foto quando erano bambini questo pure this is perfect for the memory table ah lo posa quello ma benestamente mettavolo come un malattico c'è pure lei però non so i should take this down to the table sì sì lo so forse è meglio il disco ragazzi non la foto perché quel disco piaceva a lui a poco senso mettergli la foto che c'è anche Alex dato che è stato anche l'ultimo bel ricordo glad I have something to add to Gabe's table ok ok adesso possiamo andarcene ok 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 Jed said I might find mac in the flower shop but I have time to swing by the dispensary if I want Alex Alex you can do a dispensary when you have to do a dispensary I have written sure step hai tempo di passare un secondo in negozio dipende che c'è niente grave te lo dico quando passi dentro quando passi dentro ok on one hand there's the open road and the freedom to run away from my problems on the other helmet hair I've heard about the accident was it on the news scommetto che pescheremo scommetto che pescheremo cioè ci sono dei bei mini giochi do I even want to stay here without Gabe? in this state I've never been to before this town I've been in for less than a week in a fat not that I know where else I'd even go back to the nothing waiting for me in Portland fuck I have no idea what comes next but I'm not leaving here without answers about Gabe at least I know that comunque la grafica veramente ragazzi è pure fluido 60 fps the park looks fun to explore if not for the paddling kayaking would be super relaxing quindi possiamo esplorare la città sorry about leveling all your mountains here's a bench per gentile concessione del comitato della Typhon per l'abbellimento di Haven Springs you're writing novel since when what if I die tomorrow just like that guy what have I done with my life I don't have any easy answers for that but we wanted to take a class together I don't think we're going to think of Gabe let's do creative writing but that wouldn't start until summer what's the rush I feel like there's a lesson here about love leaving a mark on the world but I'm not in the fucking mood I used to babysit Ethan when he was little this whole thing is so horrible did you see him over by the literally nothing I can do for Ethan I feel so useless I've been there talk to him I wasn't really sure what to say hey Pike hey how you hold up I'm some guess I've been better yeah right dumb question hey I want you to know what I meant what I said back there Gabe was something else he could bring a smile to my face even on the worst days yeah that's what everyone's been saying and uh when you're ready I still need to get your statement for the investigation ehm glielo dico io glielo direi subito non lo so mac loudon the guy that showed up at Gabe's place throwing punches the safety manager on duty that night is lying to you that's my statement I know you're angry Alex but it's an ongoing investigation I'm still going to need to interview you sure whatever if she doesn't let up my job's gonna get a lot harder I know I'm right Pike I'll prove it whenever you're ready for that interview give me a call ok ragazzi ok ragazzi ok ragazzi ok l'essera apparently apparentemente insert epiphany about new beginning here apparentemente tutto porta a lui a mec this location gets all the foot traffic and word around the water cooler is La città di minuto è iniziata a crescere. Più più jobbi. Ci clienti qui sono molto piacere che in Denver. Non ho mai avuto a Denver, ma ho garantito che ci sono piacere qui. Se Typhon si arriva, mi perdere tutto il mio negozio. È molto inolico che tutto con Typhon avrà cambiato. Sono stato il più grande emploratore in Haven. È un pollo! Abbiamo un vero di sapere quello che sta succedendo con i nostri jobbi. È un pollo che sta succedendo a Typhon. Io sempre mi sono andato a dormire. Steph mi ha chiesto di passare via la storia se avevo tempo bisogna essere qui qui Gabe ho sperato di tornare a giocare magari avrò cioè nei primi lati sensi non si esplorava liberamente torno da 5 minuti o 10 o magari 15 sembra che Steph possa lavorare su un nuovo progetto un altro issue del legendario Monster Hunter Thaenor uomo con la felpa la seczione break-up, eh? è difficile, amico come può Chrissi lasciarmi? dopo tutto ciò che abbiamo avuto insieme è difficile perdere la musica break-up ma magari potrei trovare qualcosa qui per chiara come può Chrissi lasciarmi? dopo tutto ciò che abbiamo avuto insieme è difficile perdere la musica break-up ma magari potrei trovare qualcosa qui qui per chiara il 9 Warden è bello ma non come bello come Thaenor qualcosa che lo tira su di morale che cosa? spero che tutti possiamo vedere più avventure di Thaenor spero che spero che spero che spero che C'è un gatto. Dov'è? Gabe sperava di tornare a giocare. Magari lo so. Ah, qui. Val, voglio solo essere amici. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, 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 non so. Vabbè ragazzi Credo che possiamo fermarci qui ragazzi Continuiamo nel prossimo video Partendo da questo punto Poi andremo anche Dalla fioraia Ci vediamo al prossimo video Un saluto a tutti